Quest'oggi si parla di piste ciclabili, è una situazione imbarazzante per lo stesso comune? Sì, è una situazione che è nata male e sembra che finisca peggio. Minnella a ottobre postò un video sui social paventando dei dubbi da cittadino, ai quali dubbi non è stata data alcuna risposta. Noi abbiamo tentato un accesso agli atti per capire la documentazione, cosa diceva a tal proposito, ma ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. Noi non entriamo nel merito tecnico della vicenda, però è evidente a tutti che oggi abbiamo zone della città senza asfalto devastate, delle strisce messe lì casi casualmente e delle biciclette che non utilizzano le piste ciclabili. Allora chiediamo al signor Sindaco di capire questi fondi del PNRR, che non sono fondi che ci danno al fondo perduto, ma che vanno restituiti, come vengono spesi e se realmente sono un servizio per la città o ci sono dietro altre logiche che a noi sfuggono. C'è una situazione abbastanza grave, si vede piste ciclabili che hanno coperto addirittura parcheggi per gli handicappati, il Sindaco sembra non sapere nulla, peccato che il Comune è sotto la sua gestione. Reggio è una città magica, sarà la sua origine magno-grega, cioè qui siamo al paradosso. Il Sindaco che è il principale, i cittadini hanno consegnato le chiavi al Sindaco per l'amministrazione della città. Adesso che lui dichiari la sua ignoranza, ignoranza in senso socratico, cioè di non sapere, è preoccupante, che a quei livelli quando c'è un investimento da 4 milioni e mezzo di euro che stravolge la viabilità della città, lui ha l'obbligo di sapere cosa accade centimetro per centimetro e come venga rispeso centesimo per centesimo. Quindi se non è in grado a controllare, che il ruolo del Sindaco non è solo tagliare nastri, apparire ai convegni, il ruolo del Sindaco è quello di amministrare, col buon senso di vato di mamiglia, una città. Se non è in grado a esercitare questi controlli, ne prenda atto, compie un gesto d'amore e passi il testimone a qualcuno che magari è più attento a come vengono i spoldi e gli effetti collaterali che si producono in investimenti così importanti. E cosa chiedete con questa conferenza stampa? Ma con la conferenza stampa noi informiamo che siamo stati costretti a presentare un esposto alla procura perché qui in città le cose si vengono a sapere o per intervento della magistratura o per i social, per intervento dei cittadini. Quindi noi chiediamo che le opposizioni iniziano a svolgere un ruolo di opposizione, che il Sindaco faccia chiarezza su come sono stati spesi questi... Perché l'ischio qual è? Che se la pista non è a norma il PNRR non è che dai finanziamenti e vengono restituiti, il PNRR non dà i finanziamenti. Quindi noi creiamo un ulteriore danno già alle anemiche casse del Comune di Reggio Calabria. Quindi che si faccia chiarezza, che espongono i documenti e se c'è stato qualche errore che venga evidenziato e i responsabili che vengono individuati e eventualmente messi da parte.